Consueto appuntamento Parleremo di alcune cose che sono accadute proprio negli ultimi momenti e partiamo da questi fatti per implementare una riflessione. A volte non la facciamo, a volte non l'abbiamo mai sentita, a volte siamo distratti in molte altre cose, ma a volte ci siamo dimenticati da molte informazioni o da dove veniamo. O una società anche diversa. Ecco, il primo dato è apparso proprio oggi a un articolo sulla Repubblica, adesso do il link alla regia che lo possa postare in modo tale che tutti lo si possono aggiornare. In pratica questo parla dell'aumento della disuguaglianza nel mondo. È aumentata la disuguaglianza e questa è un'indagine dell'agenzia Oxfam. La disuguaglianza è in crescita per colpa delle tasse. È un argomento che ce n'è parlato ultimamente perché c'è chi, anche i sostenitori di questo governo, ma anche del governo prima, sembra che levare le tasse sia la cosa migliore per far partire la società. Invece no, invece questo rapporto dice, attenzione, io vado con calma, ma poi lo potete leggere, la ricchezza dei 1900 miliardi della lista Forbes del 2017 è cresciuta di oltre 900 miliardi di dollari. Un più 1,2%. Quindi questi 1900 miliardari hanno aumentato il loro potere. Al contrario, la ricchezza netta della popolazione più povera del mondo, cioè, attenzione, 3 miliardi e 8 di persone, non 1900 miliardari, 1900 contro 3 miliardi e 8 di persone, è diminuita dell'11%. E oggi sono 26 i multimiliardari, 26, che posseggono la ricchezza della metà più povera del globo. Jeff Bezos, proprietario di Amazon, l'uomo più ricco del mondo, a metà marzo aveva un patrimonio di 112 miliardi di dollari. Con l'1% di questa somma, l'Etiopia, 105 milioni di persone, paga il servizio sanitario e non è andata meglio in Italia. A metà del 2018, il 20%, quindi meno di un quarto, meno di uno su quattro, dei più facoltosi possedeva circa il 72% dell'intera ricchezza nazionale. E il 5% addirittura aveva tra le mani della stessa quota di ricchezza posseduta dal 90% del più povero. E dal 2000, che il meccanismo si è inceppato, e da allora, continua l'articolista, In Italia, mentre il 50% dei più poveri ha continuato a vedere scendere la propria ricchezza, quindi il 50% è più della metà, il 10% più ricco, a cominciare dal 2007, anno della crisi, ha sempre visto aumentare, a parte alcuni anni di calo, e quel cetto medio in forte difficoltà. Quindi le tasse, continua il rapporto, quindi i più ricchi non avrebbero bisogno vedere aumentare la loro ricchezza, e invece per loro aumenta e per la massa, la grande massa, diminuisce. Continua l'articolista, l'articolo che poi, in questo articolo trovate anche dei grafici che dimostrano questo andamento. Le tasse sono scese, ma non per il comune cittadino. Poi farò un appunto su questo. La contribuzione fiscale delle grandi aziende e dei super ricchi è drasticamente diminuita. Nei paesi ricchi, in media, l'aliquota massima dell'imposta sui redditi è passata dal 62% del 1970 al 38% del 2013. Nei paesi in via di sviluppo è in media del 28%, ma ciò che colpisce è la drastica riduzione dell'aliquota effettiva verso i redditi di impresa, che per il 90% più grande di corporation è scesa dal 34% del 2000 al 24%, senza contare i movimenti del denaro illecito, che si aggiungono a evasione, a illusione fiscale e vengono così sottratti ai finanziamenti del welfare. Io volevo tanto porre su questo, delle tasse, un piccolo accenno alla Flax. È un articolo apparso sul guidafisco.it che riporta le dati dal sole 24 ore, sapete che è stata varata quest'anno la Flax, la flat tax, cioè la tassa piatta. Riguarda il popolo delle partite IVA, in particolare dei contribuenti nel regime forfettario del 2019, con innalzamento dei limiti dei ricavi a 65 mila euro nel 2020, ci sarà l'applicazione dell'aliquota flat tax, a chi ha ricavi compresi fra il 65 e i 100 mila euro, attenzione, ci saranno due aliquote, una del 15% fino al 65 mila euro, dai 65 ai 100 mila il 20 mila euro. Faccio notare, 65 mila euro di ricavi, di compensi, sono il doppio di un normale lavoratore dipendente, che normalmente non arriva ai 30 mila euro e paga di tasse di media il 43%. Di questo poi andrate a vedere anche voi, che secondo me è interessante, se le riduzioni, che sono i calcoli che ha fatto il sole 24 ore, con ricavi da 50 mila euro, rimanendo le detrazioni, rimangono come sono attualmente, una flat tax fa risparmiare 2.520 euro, a chi ha un ricavo di 50 mila euro e quindi le tasse sono una cosa molto, molto importante. Ma torniamo al rapporto che diceva, istruzione e sanità, antidoti contro le disuguaglianze, una ricerca recente condotta su 13 economie in via di sviluppo, ha dimostrato come gli investimenti in sanità e istruzione, abbiano contribuito a ridurre del 69% le disuguaglianze economiche, perché non potrebbe essere il conto in banca a decidere per quanto tempo si andrà a scuola o quanto a lungo si vivrà, eppure in gran parte del mondo è così. E lo stesso vale per l'accesso alla sanità, qualcosa che si sta iniziando a vedere anche in Italia, dove migliaia di persone, ricorda il Censis, non si cura più. Solo attraverso una politica fiscale comune, ancora più a livello europeo, che si possono finanziare istruzioni e sanità senza le quali le disuguaglianze continueranno a crescere. Istruzione, sanità e fisco che intervenga in modo progressivo sulla ricrezza, questa è la ricetta di Oxfam. Ecco com'è la situazione, i ricchi diventano sempre più ricchi, poi andiamo a vedere il meccanismo, ma non è solo questa ricerca, la cosa più banale che in questo periodo abbiamo letto è riguardo per esempio la banca Carige. La Carige ci ha insegnato, nonostante i Cinque Stelle o Salvini dicessero il contrario, ha dimostrato ancora una volta che il salvataggio di queste banche si deve fare, perché accetti il sistema, cioè accetti che funzioni tutto in base al denaro e quindi le devi salvare, dall'altra che il salvataggio viene a spese della socialità, del pubblico e maggiormente pesa sulle spalle di chi paga mediamente il 43% del proprio reddito. e questo è importante perché l'altro giorno leggevo sempre un articolo sempre riguardo a questo, alla povertà che sta aumentando, sul Corriere di giovedì 17 gennaio, dove a parte questi studi, non capisco perché escano in un certo momento e quando si prendono il governo o chi decide prendere le decisioni non appaiono mai, diceva che l'inflazione, guarda caso, e quindi c'è tutto un filo conduttore su quello che ho detto prima, guarda caso, l'inflazione colpisce di più i ceti meno ambienti, perché secondo questa è una statistica fatta dall'ISTAT, l'Istituto Nazionale della Statistica, certifica quello che dicevo prima, ovvero che nel 2018 le famiglie meno ambienti hanno dovuto sobbarcarsi un'inflazione cresciuta dell'1,5% mentre le famiglie benestanti soltanto dell'1,1%, uno diceva, eccom'è questa storia. Lo vediamo, nell'ultimo trimestre dello scorso anno le cose sono ancora peggiorate, aumento dell'1,8% per il primo, cioè l'inflazione, per il primo gruppo delle famiglie meno ambienti, quindi sono più sfortunati e mentre il gruppo di quelli più fortunati l'inflazione è inciso soltanto dell'1,3%. Le cause sono l'accelerazione dei prezzi di energia, degli alimenti, del gas, dell'elettricità, della benzina e del cibo. Questo perché? È semplice, perché le famiglie del primo gruppo, cioè quello meno ambiente, spende il 14,5% delle entrate per l'energia, il 17% per gli alimenti, quello del quinto gruppo, cioè quello che ha più denaro, spende soltanto in proporzione il 6,6% per quanto riguarda l'energia e l'8,1% per quanto riguarda le spese per gli alimenti. Quindi se tutti i tuoi soldi ne hai pochi, poter decidere dove spenderli e devi spendere per riscaldarti o per mangiare, è chiaro che incide di più di inflazione su chi ha meno soldi perché vuol dire che va a sottrarre potere d'acquisto a chi già spende tutto in cibo o per riscaldarsi. Per esempio prendiamo la bolletta elettrica per la quale è risaputo da sempre che il costo dell'energia in quanto tale è addirittura meno della metà della spesa, mentre ci sono oneri generali di sistema, tasse applicate per parecchi svariati motivi che pesano per il 20%, per non parlare delle famigerate accise sulla benzina, sul gasolio, altre imposte che poco hanno a che fare con i carburanti e che in Italia raggiungono anche il 40, il 45% del prezzo totale, ma tutte le tasse, il prelievo fiscale che viene dalla ricchezza del lavoratore in pratica, il 43%, da chi non comodiamo, da chi ha reddito fisso, dove vanno? E si è osservati incentivi per chi assume persone, cioè quindi soldi che vanno stornati alle aziende, quindi il ritorno, già chi paga meno è agevolato perché ha riduzioni, ha agevolazioni o iper ammortamenti per l'industria 4.0, addirittura i soldi del reddito di cittadinanza vengono stornati a quelle aziende che assumono, ecco vedete, cioè c'è in pratica lo Stato fallesatore, cioè preleva dei soldi ai poveri per dargli ai ricchi, in pratica il Robin Hood al contrario, ma arriviamo anche addirittura al paradosso più grande che chi dovrebbe difendere i lavoratori più poveri, più diseredati, per esempio i sindacalisti, ma sappiamo mai tutti che i sindacalisti sono la stampella di questo sistema, li troviamo dentro un'indagine per quanto riguarda il caporalato, vi leggo la notizia, è del 17 gennaio, notizia ANSA, poi oggi ne hanno parlato anche in giornali e via dicendo, operazione della Polizia di Stato di Latina contro un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro e al caporalato, ai danni di centinaia di stranieri utilizzati nei lavori agricoli in condizioni disumane, raggiunti dal provvedimento a cautelare, seguito da guardia mobile e servizio centrale operativo di polizia, anche un sindacalista e un ispettore di lavori operanti della provincia di Latina. Ebbene, quando ci si basa tutto su questo sistema che si chiama denaro, è il sistema della legge del valore scoperto, ma neanche da Marx, ma che lo riprende dai classici, da Smith e da Riccardo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la ricchezza prodotta, la ricchezza che fa vivere tutti in pratica è la casa, il vestito, il mangiare, queste sono le cose materiali, oggettive, fondamentalmente primarie. Ebbene, a fronte di un lavoro che qualcuno fa per un altro, che è il proprietario di questi mezzi, gli viene dato un salario e questo salario non è il totale di quanto lui crea, come quanto prodotto, ma gli viene dato un salario che è meno di quanto il datore di lavoro gli dà come salario, che è niente altro che un rapporto di forza lavoro, che permette alla forza lavoro di rigenerarsi, comprarsi i mezzi di sussistenza e via dicendo, per essere pronto domani a andare al lavoro e rifarsi sfruttare. Quindi qual è il noccio del problema? Che tutti vogliono quella parte, una parte di lavoro creato e quindi di ricchezza, creato da queste persone. Domanda, quanti prodotti secondo voi un politico ha creato? Un politico non avrà mai creato un paio di scarpe, né un paio di pantaloni, né un'auto, né una casa, eppure vivono benissimo. Quanti rentier, cioè quelli che vivono di rendita, hanno creato questi prodotti, mentre, e torniamo all'articolo precedente, mentre chi crea questi prodotti, che è in fabbrica tutti i giorni, va a vendere tutti i giorni la propria forza lavoro, questo è il povero e questo lavora per mantenere anche quelli che fanno una vita migliore di loro e non solo migliore, ma sono talmente abili, avendo degli strumenti, di imbonirti la testa dicendo che così è giusto, tu hai il lavoro è sacro e loro non lavorano, ti dicono che questo è il sistema migliore, per loro però, per loro. Quando senti i politici che vogliono creare lavoro, ma vogliono creare lavoro perché vendita di lavoro vuol dire ricchezza per chi poi dà lavoro, mica perché vogliono far bene la collettività, me ne frega assolutamente niente. Però allora a sto punto, visto che il tempo non è molto, io non riparteremo su questo, cosa possiamo immaginare? Ma non è una questione di immagine, di immaginarsi qualcosa che viene dall'altro mondo, è analizzando la società, come si sviluppa la socializzazione del lavoro. Ormai le fabbriche, la produzione è in mano a poche persone, abbiamo visto 1.900 persone più ricche del mondo e tutti gli altri che vendono proprio a forza lavoro a questi, che sono i proprietari del mondo come Gesù li avesse, Dio gli avesse dato questa missione, voi dovete salvare il mondo. In realtà c'è una frasetta che ci sono delle frasi che a me sono rimaste sempre fisse e prese nella mente perché vengono da lontano, vengono da un personaggio molto importante per la mia formazione culturale e vengono tratte dal Capitale e dicono immaginiamoci un'associazione di uomini liberi che lavorano con mezzi di produzione posseduti in comune, non come oggi c'è la proprietà privata dei mezzi di produzione e di scambio, e spendano coscientemente le loro molteplici forze lavoro individuali come un'unica forza lavoro sociale. Cioè in pratica dice se c'è un piano di produzione ognuno fa parte, entra col proprio lavoro, con la propria parte, fa un grande piano di produzione, un prodotto complessivo dell'associazione quindi diventa un prodotto sociale, una parte di questo prodotto, una parte di esso serve nuovamente come mezzo di produzione, è chiaro perché i mezzi di produzione si consumano e rimane sociale, ma un'altra parte viene consumata come mezzo di sussistenza dai membri di questa associazione e dunque deve essere ripartita fra di loro. Come deve essere ripartita questa produzione collettiva? Questa ripartizione varierà, la domanda l'ho fatta io, ma in realtà era per agevolare un po' la comprensione. Marx dice questa ripartizione verrà a seconda dei vari generi dell'organizzazione sociale, di produzione e del corrispondente livello di sviluppo storico dei produttori. Solo per parallelismo, dice, solo se noi guardiamo un po' questa società dove esiste la legge del valore, quindi la società capitalistica, quindi la società produttrice di merci, quindi solo per parallelismo con la produzione di merci, supponiamo che la partizione di ogni produttore ai mezzi di sussistenza sia determinata dal suo tempo di lavoro. Allora quindi prima piano, tempo di lavoro individuale per un piano sociale di produzione. Quindi per realizzare quel piano di produzione in armonia con l'ambiente e la specie ha bisogno di una certa quantità di tempo di lavoro e di ore di lavoro, però qui a diversità della legge del valore dove il produttore prende meno, cioè gli viene restituito meno di quello che ha prodotto, il tempo di lavoro recita in questa ipotesi una doppia parte. La sua distribuzione secondo un piano sociale, che dicevo prima, regola la giusta proporzione fra le diverse funzioni del lavoro e i diversi bisogni da una parte. Dall'altra il tempo di lavoro serve contemporaneamente da misura della partecipazione individuale del produttore al lavoro comune e perciò anche alla parte individuabile, consumabile del prodotto comune. Qui le relazioni sociali fra gli uomini, i loro lavori e i prodotti del loro lavoro rimangono quindi una semplicità cristallina sia nella produzione che nella distribuzione. Ma uno potrebbe dire, chi è che fa il piano di produzione? Il piano di specie, lo fa la collettività. Non c'è bisogno di un Dio che venga giù a dirci facciamo questo, vi dico come fare, eccetera. Ci sono degli esempi bellissimi, personalmente ne ho anche un paio, vi dico una volta non funzionavano gli orari dei treni, ci si è fatto un comitato di pendolari, hanno studiato bene quali fossero gli orari più consuli che andassero bene ai pendolari, gli hanno presentato la regione, la regione Veneto li ha accettati e mentre più aveva speso milioni, 300 milioni aveva speso per dare a un consulente super esperto di orari, per combinare gli orari regionali, non funzionavano. I pendolari lo hanno fatto gratis e una cosa funzionava. Ma questo piano deve essere in funzione della specie, di quello che ci può dare questo pianeta a tutti la possibilità, non è possibile che 200 milioni di persone spendano il 50% della ricchezza o sperperano la ricchezza, perché il problema è quello di vendere, perché vendere si diventa sempre più ricchi, sempre più potenti, invece bisogna che se questo l'ambiente ci dà, dobbiamo pensare di come distribuirlo, di come creare questa produzione in modo tale che tutti abbiano la stessa possibilità di vivere. Marx continua dicendo su un altro, qui era il capitale, ma prende anche su critica del programma di Gota, dice per esempio, torno a questo punto, la giornata di lavoro sociale consta, cioè è fatta dalla somma delle ore del lavoro individuale, il tempo di lavoro individuale del singolo produttore è la parte della giornata del lavoro sociale, cioè collettivo, conferita da lui la sua partecipazione alla giornata di lavoro sociale, egli riceve quindi, che fa parte di questo piano, dalla società uno scontrino da cui risulta che egli ha prestato tanto lavoro dopo la detrazione del suo lavoro per i fondi comuni, perché sappiamo che bambini non possono lavorare, i malati non possono lavorare, una parte questa comunque come specie va accantonata per queste persone e con questo scontrino egli ritira dal fondo sociale tanti mezzi di consumo quanto equivale a un lavoro corrispondente. La stessa quantità di lavoro che gli dà alla società in una forma la riceve in un'altra. Come si fa questo piano di produzione? La società conosce se stessa, sa di cosa ha bisogno oggi più di ieri perché attraverso questi sistemi informatici sappiamo tutto quanto uno consuma, quanto spende, di quanto ha bisogno per avere un vivere in equilibrio con la specie umana, le specie perché anche l'uomo è parte della specie che vive su questo pianeta e la natura. Facciamo un esempio, i trasporti oggi viene detto che se noi non produciamo auto ci saranno persone che rimangono senza lavoro, ma questa è vista in un'ottica individuale, cioè di chi ha i mezzi di produzione e dal lavoro ha, dal lavoro, lui si arricchisce dal lavoro, ha delle persone che poi spendono questo salario e via dicendo. E queste vedono effettivamente che funziona così, sembra una logica, ma portiamo ai lavoratori dell'Ival di Taranto che pur di non morire di fame subito accettano, diciamo così, sono in piazza perché vogliono mantenere la loro fabbrica dove loro lavorano anche se inquina. Invece in un piano di specie sarebbe diverso, sarebbe dire l'auto serve, servono questi mezzi, tutti questi mezzi individuali di trasporto, quanto consuma e l'ilva, quanto inquina, quanto mette a repentaglio la specie, quanto lavoro ci vuole poi per ripulire se faccio questo lavoro è altamente inquinante. Ecco, non ti bisogna inventare assolutamente niente, bisogna semplicemente riprendere in mano queste idee, elaborarle e fare gruppo e far sì che queste idee si incarnino, altrimenti succede quello che sta succedendo adesso, c'è un'apatia tremenda, non si sa, soprattutto in Italia, mentre da altre parti effettivamente si sta muovendo qualcosa, però non si sa cosa si vuole, ci si muove perché si perdono alcune garanzie, però non si sa cosa si vuole in alternativa, l'alternativa c'è, basta praticarla, basta iniziare a ragionare e a propagandare questa società diversa, perché ormai questa ha fatto il suo tempo, non è una società scritta da nessuna parte che la società di produzione capitalistica deve rimanere tale, deve sempre rimanere, ma c'è la possibilità di fare un salto qualitativo, un n più 1. Vi ringrazio dell'ascolto, riflettiamo su questa cosa e ci risentiamo fra 15 giorni. Ciao a tutti! Grazie a tutti!